Ciao a tutti criminali di Ezio vostro e bentornati sul mio canale didattico Diego ti spiego nella sezione della matematica. In questo video vedremo come si studia il segno di un radicale, cioè quando un radicale è positivo o negativo. Per affrontare questa lezione dovrai saper ricavare la condizione di esistenza dei radicali e saper risolvere le disequazioni di primo grado, mi raccomando eh! Se non ti sei ancora iscritto al canale fallo immediatamente che poi m'offenno oppure seguimi su Instagram. Vediamo da qui c'è qualcosa oh! Cominciamo con questo nuovo video ancora dedicato ai radicali in cui vogliamo andare a studiare qual è il segno di un radicale, cioè vogliamo capire sostanzialmente quando un radicale è positivo o negativo. Preso un certo radicale radice ennesima di a che cosa possiamo dire? Possiamo dire che questo radicale risulta sempre positivo nel dominio, cioè nel campo di esistenza se n è pari, mentre mantiene lo stesso segno del radicando se n è dispari e quindi in questo caso può essere sia positivo che negativo. Facciamo subito degli esempi così capiamo bene la situazione. Supponiamo di prendere la quantità radice quadrata di 2. Vedete che questo radicale è un radicale che ha indice pari, quando non scrivo niente abbiamo detto è radice quadrata. Inoltre è un radicale che esiste sempre, per quale motivo? Quando abbiamo a che fare con un radicale mi devo assicurare che la quantità sotto la radice sia positiva quando l'indice è pari. Qui la quantità sotto la radice è 2, quindi complessivamente questo radicale esiste. Adesso però mi sto chiedendo un'altra cosa, cioè voglio sapere qual è il segno di questo radicale, cioè se questo radicale è positivo o negativo. E in questo caso possiamo dire che questo radicale è maggiore di 0 sempre, appunto perché l'indice della radice è pari e il radicale esiste. Prendiamo però la quantità radice cubica di meno 2. All'interno di una radice cubica possiamo avere delle quantità sia positive che negative, proprio perché l'indice della radice è dispari. Quindi anche in questo caso il radicale esiste sempre, per il semplice fatto che è vero che dentro la radice c'è una quantità negativa ma l'indice della radice è dispari. Cosa possiamo dire riguardo al segno di questo radicale? Possiamo dire che questo radicale è sicuramente minore di 0. E questo per quale motivo? Perché quando abbiamo a che fare con un radicale di indice dispari possiamo prendere e portare il meno fuori, quindi quello si scrive come meno radice cubica di 2, che è chiaramente una quantità sempre negativa. Vediamo adesso che cosa succede quando abbiamo a che fare con radicali letterali. Prendiamo come primo esempio il radicale radice quarta di 4 meno b. La prima cosa che dobbiamo fare quando abbiamo radicali letterali è andare a fare la condizione di esistenza, che ovviamente mi dirà quali sono i valori per cui quello all'interno della radice è maggiore o uguale di 0. E da qui vedete 4 meno b maggiore o uguale di 0, scopro che b deve essere necessariamente minore o uguale di 4 affinché il radicale esista. Adesso però la domanda è un'altra domanda, è qual è il segno di quel radicale? Quindi la domanda che mi posso porre è quando è che questa roba è maggiore di 0 oppure minore di 0? Diciamo che rispondendo alla domanda quando è maggiore di 0 scopro anche quando è che è minore di 0. E per quello che abbiamo detto prima possiamo dire che quel radicale è maggiore di 0, cioè sempre positivo, purché b sia minore di 4, cioè purché io rispetti la condizione di esistenza del dominio, cioè prenda dei valori di b che sono minori di 4. Se poi voglio essere molto preciso posso dire anche che quel radicale farà 0, cioè sarà nullo, se b è proprio uguale a 4. In generale posso dire che quel radicale è non negativo, cioè positivo o uguale a 0, sempre, purché io rispetti la condizione di esistenza, cioè b sia minore o uguale di 4. Adesso prendiamo invece un altro esercizio in cui abbiamo a che fare con una radice di indice dispari, quindi radice quinta di a più 5. La condizione di esistenza di questa radice è ovviamente per ogni a appartenente reali perché qualsiasi valore di a vado a prendere lì dentro mi va bene che sia un valore positivo, negativo o 0, quindi sostanzialmente posso prendere tutti i valori di a che voglio. E adesso voglio rispondere ancora una volta alla domanda quando è che quella roba è positiva. E la risposta sarà ovviamente che quel radicale sarà maggiore di 0, cioè positivo, se la quantità dentro la radice sarà positiva e quindi se a più 5 sarà maggiore di 0, ovvero a maggiore di meno 5. Sarà uguale a 0 se a più 5 è uguale a 0, ovvero se a è uguale a meno 5, mentre sarà minore di 0 se a più 5 è minore di 0, ovvero se a è minore di meno 5. E quindi questo vedete che cosa ci dice? Ci dice sostanzialmente che il segno di un radicale con indice dispari dipende dal segno di quello che c'è dentro, ovvero da radicando, come abbiamo detto in precedenza. Vediamo adesso altri due esempi particolari e poi concludiamo. In questo caso abbiamo un radicale di indice pari dove all'interno c'è un radicando fratto, cioè una cosa che ha la x al denominatore. La primissima cosa da fare anche qui è fare la condizione di esistenza, che ovviamente sarà 6x fratto 2-x maggiore uguale di 0. È una disequazione fratta, quindi la divido tra numeratore e denominatore. Per il numeratore quindi scriverò 6x maggiore uguale di 0, che mi darà x maggiore uguale di 0. Per il denominatore 2-x maggiore di 0 e non maggiore uguale, che mi darà x minore di 2. A questo punto faccio il grafico dei segni e vado a prendere la quantità positiva, ovvero la quantità x compresa tra 0 e 2. Questa qui è la mia condizione di esistenza, cioè sto dicendo che se voglio che quel radicale esista, devo prendere necessariamente i valori di x compresi tra 0 e 2. Tutti gli altri valori mi danno un radicale impossibile. Adesso invece voglio rispondere alla domanda quando è che quella quantità, tutta quanta complessivamente, è maggiore di 0. E la risposta sarà sempre la stessa, cioè quella quantità sarà sempre maggiore di 0 sempre positiva, purché io scelga dei valori proprio all'interno del mio dominio, della mia condizione di esistenza. Quindi sarà una quantità sempre positiva nel dominio, cioè nel campo di esistenza. E ovviamente potrò dire che sarà nullo se sceglierò il valore di x uguale a 0. Facile facile, no? Concludiamo con un esercizio leggermente più difficile in cui abbiamo a che fare con due radici, una al numeratore e una al denominatore, una di indice dispari e l'altra di indice pari. Ma potrei aver avuto due radici di indice dispari o due radici di indice pari. Si fa nello stesso modo. Anche in questo caso andiamo a fare la condizione di esistenza. Siccome abbiamo a che fare con due radici differenti, la condizione di esistenza deve essere fatta su tutte e due le radici e le condizioni che trovo devono essere messe a sistema. Per quanto riguarda la radice al numeratore è di indice dispari, si trova al numeratore, quindi vuol dire che la sua CE sarà per ogni x appartenente reali, cioè mi va bene qualsiasi valore della x. Se fosse stata al denominatore invece non mi andava bene quel valore che la rendeva 0, cioè 8. Per quanto riguarda il denominatore è una radice di indice pari, quindi dovrei dire che la quantità dentro la radice deve essere maggiore o uguale di 0. Siccome però si trova al denominatore non può essere uguale a 0 ma solo maggiore. Il grafico delle intersezioni di queste due condizioni, grafico delle intersezioni perché siamo a sistema, mi dà x maggiore di 0, che è anche la nostra condizione di esistenza. Quindi questo vuol dire che se voglio che quel radicale esista complessivamente, devo prendere i valori di x solo maggiore di 0. A questo punto però voglio rispondere alla domanda quando è che tutta quella roba complessivamente è maggiore di 0. E qui si pone un problema. Per quale motivo? Vedete, lì abbiamo una disequazione fratta, che quindi devo risolvere facendo un numeratore maggiore di 0 e denominatore maggiore di 0. Per quanto riguarda la quantità al numeratore che cosa posso dire? Posso dire che sarà positiva se x meno 8 è maggiore di 0, cioè se x è maggiore di 8. Sarà uguale a 0 se x è uguale a 8 e sarà minore di 0 se x è minore di 8. Per quanto riguarda il denominatore invece che cosa posso dire? Ovviamente che quella quantità sarà sempre positiva nella nostra condizione di esistenza. Come unisco queste due cose? E faccio un grafico che deve essere il grafico dei segni, perché ho a che fare con una disequazione fratta. Prendo 0 e prendo 8 e vado a scartare la quantità prima di 0, perché abbiamo detto che complessivamente la nostra espressione esiste soltanto per valori di x maggiori di 0. E a questo punto cosa mi dice quello che ho studiato? Mi dice guarda che quella roba è positiva per x maggiore di 8 e negativa per x minore di 8. E questo per quanto riguarda il numeratore, mentre per quanto riguarda il denominatore sarà positivo sempre nel nostro dominio. Quindi andando a fare il prodotto dei segni otterrò meno e più. Quindi cosa posso dire complessivamente? Posso dire che la nostra espressione sarà positiva per x maggiore di 8 uguale a 0 per x uguale 8 e sarà negativa non per x minore di 8 ma per x compreso tra 0 e 8, perché devo andare a rispettare la condizione di esistenza per cui x deve essere maggiore di 0. Una piccola scorciatoia che potete utilizzare ragazzi è questa. Non tutte le volte dovete fare questo discorso di dire quando è positivo e quando è negativo. Imponete soltanto la radice maggiore di 0 e andate a studiare il segno eliminando la radice, quindi semplicemente facendo quello sotto la radice maggiore di 0, che è quello che fate sempre con le disequazioni di primo grado o di secondo grado quando le troverete in futuro. Con questo video abbiamo concluso, grazie per avermi seguito anche oggi e al prossimo video sui radicali!